Qual è il tuo livello di italiano? Beh, in questo video potrai testare le tue conoscenze grammaticali della lingua italiana. Sigla! Ciao a tutti, come va? Benvenuti a questo nuovo video. Se sei nuovo o nuova qui nel canale ti invito subito ad iscriverti cliccando nel pulsante. Mi presento, io sono Pierluigi, creatore di questo canale e del programma Vai, che è un corso di immersione nella lingua e nella cultura italiana. E a proposito di inversione, se mi segui già dovresti saperlo, dal 3 all'8 gennaio farò un nuovo corso gratuito chiamato, appunto, Immersione Italiana. Sarà un corso totalmente in italiano, per cui se ti piacciono i miei video e si riesci a capire, perlomeno in parte, in buona parte, quello che io dico, beh, questo corso è fatto apposta per te. Non si tratta di semplici lezioncine d'italiano, no. Sarà una settimana piena, intensa, ricca di contenuti, per cui davvero un'occasione da non perdere se vuoi fare un bel passo in avanti nel tuo italiano e prepararti per il 2023, ok? Per partecipare basta prenotare il tuo posto cliccando nel link in alto o nella descrizione del video e noi ovviamente ci vediamo al corso gratuito. Ma cominciamo subito con il test. Ti consiglio di prendere subito carta e penna, o come diceva il grande Totò, carta, calamaio e penna, in modo tale da annotare le tue risposte e poi confrontarle con le soluzioni che ti darò alla fine del test. Partiremo da domande più semplici all'inizio che poi diventeranno via via più avanzate nel corso del test. Tu, italiano, sei e siete. Studenti vanno a scuola Grazie Che regalo Domani Matteo va Italia Ieri andato in pizzeria Siamo, sono, ho Mangia che fa bene Ti, te, vi Abito in Italia tre mesi Da, da, fa, in Scusi Farmi un caffè? Potresti? Potreste? Potrebbe? Questo panino è troppo grande Non mangio tutto Lo Ne Ci Pensavo che Pensavo che A prendermi in macchina Avresti passato Saresti passato Avessi passato Dai Dai, su Non Prendere Ve la Se la Te la Allora, come ti è sembrato? Facile? Difficile? Tra poco ti darò le risposte del test Che in realtà Più che un test Potremmo definirlo Una piccola sfida No? Un gioco Per mettere alla prova Il tuo italiano Ma prima Devo dirti una cosa Molto importante Che Forse Ti stupirà Chi mi segue da tempo Sa che io Non credo Nelle classificazioni di livello I classici Basico Intermedio Avanzato Questo perché Generalmente le persone Si inquadrano In ciascuno Di questi livelli Sulla base Di un libro Che hanno studiato Di un corso Che hanno fatto O di test Che però Valutano prevalentemente La conoscenza teorica Della lingua E fotografano La situazione Di un momento Spesso In un contesto Irreale E in una dinamica Molto specifica Per la quale Lo studente Si è preparato Appositamente Per cui Il risultato Di questi test Non dice nulla Molto spesso O dice Molto poco Sulla reale capacità Di una determinata persona Di usare La lingua Praticamente In un contesto Vero Nelle situazioni Quotidiane O in altre parole Non misura Quanto una determinata Persona È fluente In quella lingua Certo Se una persona È fluente In una lingua È in grado Di superare Questi test Senza grossi problemi Ma attenzione Non vale il contrario Cioè Se una persona Supera questi test Non significa necessariamente Che sia fluente Nella lingua E Per quanto possa Sembrare strano Una persona Che ha un livello Di conoscenza Di base Della lingua italiana Potrebbe essere Anche più vicina Al diventare Al diventare Fluente In italiano Rispetto A un'altra persona Che invece Ha un livello Di conoscenza Teorico Più avanzato Nella lingua Ma È come possibile Questo Pierluigi Beh Lo capirai Esattamente Il 22 dicembre Giovedì Alle sette e mezza Nella lezione Di preparazione Che farò In vista Del corso gratuito Immersione italiana Che ci sarà Proprio A gennaio In questa lezione Capirai Cosa è che Determina Veramente Il tuo livello Di italiano E potrai fare Un test Che ti permetterà Di capire Quanto sei distante Dall'essere Fluente In italiano Quindi Segnati questa data 22 dicembre Alle sette e mezza Per partecipare Clicca Nel link in alto Iscriviti al corso Gratuito Immersione italiana Perché proprio Gli iscritti Al corso gratuito Immersione Riceveranno il link Per partecipare Alla lezione E il link Per fare il test Di livellamento In preparazione Del corso gratuito Ma adesso Eccoci alla Soluzione del test Affinché tu possa Verificare Le tue risposte Già di filtrare Allora, com'è andata? Ovviamente spero bene, fammi sapere qui sotto nei commenti quante sono state le tue risposte corrette Se il test non è andato tanto bene, non preoccuparti, se è andato bene, beh, tanto meglio, ottimo Ma attenzione, in entrambi i casi, se il tuo obiettivo non è semplicemente conoscere la teoria della lingua ma andare ben oltre e parlare, comunicare in modo fluente in italiano, beh, allora ti aspetto al corso gratuito Immersione Italiana Fai l'iscrizione cliccando nel link e noi ci vediamo già giovedì 22 dicembre alle 7 e mezza Un grande abbraccio e ci vediamo a lezione giovedì, ciao!